chiediamo l'indizio no 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 l'indizio allora la porta chiudiamo la porta ciao a tutti ragazzi siamo rabbi e molly e bentornati in un nuovo video dei disegni just draw perché il primo video che abbiamo fatto vi è piaciuto tantissimo e abbiamo intenzione di riportarlo siete pronti lasciato mi piace siete iscritti no iscrivetevi che cosa è stato aspettato iscrivetevi ok ci eravamo fermati tu sei iscritto è certo che sono iscritto guarda ci eravamo fermati qua siamo a livello 39 lo sei io lo sei no no tocca a me tre per uno ok e chi l'ha detto che mi siete allora ok allora a lui gli manca una mano oppure un ragioncino guarda guarda una mano che poverino questo qui se sta yeee si vabbè ma quattro dita cos'è cernobil ok adesso la porta in alto eh questo è difficile una scala forse una scalinata così una scala scale eh sono un fenomeno guarda lì che sono in attaccia dalla finestra allora vai no tocca a me tre per uno no questo lo so cosa gli serve una bella ceretta Rebi ha un po' di pelli che cosa succede sono io gli facciamo la puzza no la ceretta no un altro calzino Rebi dai non è difficile si ma gli hai tagliato un po' la scamba ok tocca a te adesso eh dai è facile lo so lo so lo so lo so questa è l'orologio un orologio ecco qua oh dai ci sta no l'hai fatto male come? rifallo ma è un orologio ma infatti l'hai fatto anche bene allora facciamolo così ma che cavolo eh? è un orologio per forza cioè cos'è secondo me? fai una riga è un pallino boh lo fai troppo ecco no fammi provare vediamo l'aiuto di molly ma era il mio turno andiamo eh che sembra quel drogo? punto bonus e tocca a me no no tocca a me tocca a me comunque questa era un po' trabocchetto era come quell'indovinello allora ehm ok quell'indovinello dai andiamo avanti dai andiamo avanti vai allora mi è venuto in mente il babbo di Giorgio ha tre figli qui qua e qua nooo a Giorgio Giorgio eh eh infatti l'avevo detto vai vai dai vai forchè ok oh vabbè facile e mancherà la testa lo scheletro eh vabbè ma non è così eh ma perchè oggi non gli va bene niente i miei disegni devi fare uno scheletro uno scheletro vai dai ahahah ahahah oh questo? credo livello 44 una maglietta una maglia hai ragione eh però la devi far meglio dai ma non è una maglia cioè ma ma i primitivi non avevano la maglia le maglie fagli un telo fagli un telo era quello che avevo fatto oppure che cavolo è una tigre che cavolo il fuoco il fuoco il fuoco dai ecco qua no tocca a me basta l'ho fatto un po male lo rifaccio ecco oh ok quello è il fuoco eh guarda la bistecca ok tocca a me ma di già? eh certo eh va bene allora ah vabbè sta guardando la luna si ma perchè le tue facilissime e le mie tutte le mie o le stelle si abbiamo sbloccato un video hai vinto una nuova cornice wow ok tocca a me no toccava a me ne ha fatto uno allora triangolo triangolo eh eh triangolo punto interrogativo tu stai facendo come quello sta studa sta sudando perché non sa cosa fare un triangolo un triangolo a più così c'è una triangolo a più ha più a più ha più a più appiù ma non è giusto questo ha le occhiaie deve dormire forse deve dormire zzz zzzzz no ti ha le occhiali magari non vede ma che cavolo dici gli occhiali è magari e non vede ci ha le ogie c'è le stanghette le No ma non c'entra, non c'entra, non sono gli occhiali, ma che cavolo c'entra gli occhiali, te lo dico io, è una zetta oppure che cavolo è essere nero, che cavolo è un cappello, una bedda sugli occhi, no gli manca il computer, c'è solo la tastiera, ma il computer è davanti, un quadrato, una luna, ma cos'è questa roba ragazzi, ci siamo bloccati, ci siamo bloccati, aspetta ragioniamo, E' nero, guarda, è nero, che cosa vuol dire, te sta scrivendo, sta scrivendo, una tazza, una tazza di caffè, non si credo, no dai, una tazza di caffè, tocca a me, no, ah si è bene, ah si, vai, dai, gli manca il computer, cosa ha fatto per aver fatto, oh mio dio, sembra, sembra quelli in diamo un gas, quando, quando li uccidi, che gli viene fuori, va bene, va bene, oh, Ah vabbè la tastiera, va bene, tutte facili, eh, eh, sì, che cavolo, il terzi cristallo, eh, no che cavolo è? È il pulsante rosso, il pulsante rosso, l'ho detto io, ecco, quello è un pulsante rosso, devi fare un pulsante, eh, ma scusa, che cos'è qui? Ci penso io, no, 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 lo so, è la porta di sicurezza, ma che cavolo dici? Sì, siamo su un aeroplano secondo me Eh, l'ho detto io Tocca a me Eh, l'ho detto io Tocca a me Ma te già? Questo ha un bello hamburger Cioè, se mi danno un hamburger così, faccio così Ecco Ciao, grazie, non tornerò mai più Dai, fai un hamburger Oh Dai, ma Un hamburger con tante strada È un oddog Yeeey Una palla, facile Ui, una palla Palla Eh, ma, ah, lo so È qui perché sta facendo gol Eeeh Tocca a me No, no, eh, noi due No, 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 no Hai fatto la margherita, hai fatto quell'altra No, due ne ho fatte Una bella margheritita Eccola Eeeh, adesso faccia a te È bellissima È una fantastica margherita Cos'è questa roba? Il ragno Il ragno Come il ragno? È una È una tela di ragno e la mosca è stata imprigionata Ui, 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 ui Ma quello il ragno? Eh, non lo so fare Ma che cavolo Faccio io, posso fare? Con il ragno? TiPrega tiPrega tiPregaIT TiPrega 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 tePrega TiPrega 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 tiPrega, TiPrega TiPrega... TiPrega 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 una nuova cornice si questo è molto più bellino questa cornice ok una goccia serve prova a dire una fossanghera serve un secchio ma che secchio certo un secchio lo devo fare meglio vai fagli il pezzo sopra un secchio no l'ombrello te lo dicevo è l'ombrello se perdi le cose io ne ho fatta una vabbè andiamo avanti allora che cavolo ma a me tutte le più difficili lo so lo so lo so cosa ho detto che lo so non che te lo dico la cassetta dai tutti gli attresi andranno in una cassetta una cassetta cos'è quella roba non ho idea ma cos'è non ho idea ah perché sta facendo il giocogliere boh la che è la luna la luna ecco qua guarda che bella luna bravo con i denti ho rovinato il disegno bellissimo sta mangiando il gufo una stella che cavolo ne so il sole la luna piena la luna piena tocca a te adesso vai ancora basta ma gli occhiali io ho sempre gli occhiali gli occhiali ah lo so ho capito ho capito io no ragazzi non riesci a vederlo io lo so che come deve farlo l'occhiale ho capito si devi l'occhio è triangolare devi farlo triangolare dai ma cos'è questa roba ma come ma era un vampiro un francese no ha il naso rosso perché ha bevuto un sacco ma c'è il cappellino da francese da pittura quindi manca la baguette se è un francese no che cavolo è è verde è verde non lo sai un'oliva ma è verde fa provare fa provare no 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 ah la bottiglia di vino la bottiglia faccio io no dai fammela per me fa la busta fa la busta la bottiglia ha fatto le prusse dai lo so che è la bottiglia su guarda vuole una bottiglia ci penso io dai vediamo cosa sai fare ecco bravo una bella bottiglia dai adesso tocca a me tocca a me no dobbiamo cambierne un live vado a te allora tocca a me livello che livello siamo 64 chiudiamo la porta chiudiamo la porta non è che fai il cesto allora spegniamo la radio una lampadina accende la luce stanno diventando troppi difficili mi piacciono dammi 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 faccio io che cos'è? la lampada che si è accesa chiudiamo la porta è quello che avevo detto io a lui gli dai un ceffone ma abbassa questa musica e gli dai una bolla abbassa il volume forse prendi tutti questi e prenditi la radio che non la vogliamo forse è il primo indizio che dobbiamo chiedere no 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 c'era scritto guarda rifa quello che hai fatto perché c'era scritto no cosa avevi fatto l'ultima volta perché ci aveva già dato un indizio dammi dammi allora avevo fatto una lampada prima lì 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 avevo chiuso questa chiediamo l'indizio no 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 l'indizio allora la porta chiudiamo la porta eh indizio 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 no no niente indizio ce la dobbiamo fare ho capito ho capito ho capito ho capito ho capito cuffie delle cuffie ah dai eh non vale ecco comunque sono troppo difficili basta allora faccio l'ultimo no vediamo livello 62 l'ultimo e poi basta un bicchiere vabbè me lo potevi far fare a me eh ma era facile questo dai ecco un bicchiere è un po' grosso dai un bicchiere si vede che magari non era il bicchiere ma magari un'altra cosa no vuole un'altra bottiglia la bottiglia d'acqua ah la bottiglia d'acqua è triste perché è da sola bene la bottiglia d'acqua vuoi te lo dico io magari non vuole l'acqua vuole l'acqua ma quello non sembrava una bottiglia d'acqua che cavolo è cos'è questo robo è una bottiglia ma quello sembra lo stura gabinetto quello che stai disegnando è un bicchiere allora facciamo così io direi per oggi basta scriveteci voi cosa dobbiamo disegnare in questo esatto e andremo avanti da ora abbiamo lì è tutto e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao